Buongiorno! Vuoi parlare l'italiano? Ma certo che vuoi parlare l'italiano! Hai raggiunto questo sito, dopo tutto! Come si può imparare l'italiano? Puoi viaggiare e venire qui in Italia, seguire un corso di italiano. Ma tutti noi sappiamo quanto è costoso fare un corso di italiano in una scuola di italiano. Potresti imparare da solo? Ma come faresti con la mancanza di motivazione? Potresti assumere un insegnante di italiano ed averlo a tua disposizione. Io sono il tuo insegnante privato di italiano e il tuo motivatore. Ho il certificato d'Itals. Che cos'è un certificato d'Itals? è il certificato rilasciato dall'Università per stranieri di Siena che certifica la capacità di un insegnante di trasmettere la lingua e la cultura italiana. che tu sia un apprendente visivo o auditivo o cinestesico io sarò lì per te. Impari le cose visivamente? Allora avrai tante mappe mentali. Cosa sono le mappe mentali? Aspetta un attimo, te la prendo subito, te la faccio vedere. Ecco qui una mappa mentale. Questa per esempio è la mappa mentale del bar. Impari ascoltando? Allora ti farò ascoltare tantissimi audio e ti farò ascoltare anche la musica italiana. Ti piace la musica italiana? Ma impari facendo le cose? Allora ti farò fare tante cose ti farò fare tanti esercizi anche di grammatica. Che tu sia un principiante assoluto oppure uno studente di livello avanzato io troverò la soluzione ideale per te. Immagina di essere un principiante assoluto e che tu vada in una classe classe in un corso di italiano dove tutti parlano italiano. Dopo un po' ti potresti anche sentire molto frustrato perché sarebbe difficile per te capire che cosa dice l'insegnante. Ti sentiresti frustrato, non è vero? Questo è quello che riceveresti in una qualsiasi classe di italiano. qui in Italia. Ecco perché, volendo, io ti posso dare delle indicazioni anche nella tua lingua. Io parlo l'inglese ad un livello avanzato e il tedesco ad un livello intermedio. I can speak English at advanced level e ich spreche Deutsch auf Niveau B2. ma la cosa più importante che noi faremo sarà parlare l'italiano. Sei di livello avanzato? Se tu fossi uno studente di livello avanzato potresti trovarti nella condizione in cui hai studiato, conosci molte cose ma non sai più come andare avanti. quindi non ti riconosci più nei corsi delle scuole di lingue. Cosa potresti fare? Beh, insieme potremmo creare un piano di studio personalizzato e superare questo momento di difficoltà. Non sei tu che devi adattarti ai corsi di italiano o agli insegnanti di italiano. Sono io che mi adatterò a te e i tuoi modi di apprendimento. Io faccio questo per passione e tante altre persone hanno imparato l'italiano con me. Prendi il tuo tempo e visita questo sito e mi auguro di averti come mio studente. Ti auguro adesso una bellissima giornata. Ciao da Antonio